Siamo con l'ESG Berdò nel termine della vittoria dell'Ampi sul Campi. Ti chiediamo un commento sulla partita. È stata una partita combattuta, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma anche loro. Purtroppo è un periodo che concretizziamo poco. Questa, la scorsa con il Masone, con il Murangeli, abbiamo fatto l'ultimo concretizzando poco. Speriamo oggi di esserci sbloccati e di continuare a dare continuità alla prova di oggi. A sbloccare la partita ci hai pensato proprio tu, però. Sì, infatti domani chiudetevi in casa perché non capita spesso. Sono contento, soprattutto perché ci servivano i tre punti e ora guardiamo la partita di sabato con il Mignanego diversamente. Ecco, sì, gli obiettivi ormai credo siano prefissati, non si molla niente perché dietro corrono, ma voi non vi volete fermare. Assolutamente no, il nostro obiettivo era quello di fare bene, non ci nascondiamo. La squadra è stata costituita per fare i playoff e vogliamo arrivarci ad ogni costo e fino alla fine daremo del filo da torcere a tutti. Grazie mille e bocca al lupo. Grazie a te.